...cui libri, giornali, televisione, radio del Stato. Adesso, su quelle gabbie, anche se altro che ha vecchiotti che guarda la rete 4. Rai, canale 5, che ascolta la radio, che ha legato ancora i libri di una volta. Abbiamo una gran opportunità, che la disugare armi pari e essere presenti su internet, che è il futuro.